A San Marco di Castellabate lunedì 6 febbraio prenderanno il via i lavori di adeguamento del fondale marino e dei sistemi di ormeggio, ammodernamento delle banchine e attrezzaggio del porto peschereccio. Si tratta di un intervento importante per lo scalo tra i più strategici del Cilento, punto di riferimento per i diportisti nel corso dell'estate e per i pescatori durante l'intero arco dell'anno. Il 6 febbraio inizieranno questi lavori, questa è un'opera importantissima, strategica per il nostro territorio, il porto è l'infrastruttura più importante che esiste in questo territorio. E' in un contesto come quello nostro di Castellabate, ma del Cilento dove le vie di comunicazione a terra sono sempre più difficili, quindi c'è sempre una situazione più difficile e collassata molte volte d'estate e il porto assume come infrastruttura una importanza strategica. E' per la pesca, perché non dimentichiamo la flotta peschereccia che esiste qui a Castellabate, tanto è vero che queste misure, questo finanziamento del FEP, il Fondo Europeo per la Pesca, e quindi è finalizzato a questa flotta peschereccia, a questa struttura che esiste nel porto di San Marco, ma oltretutto a migliorare le condizioni di sicurezza, perché non dimentichiamo che il porto di San Marco emette oramai in questi anni di numerosi portisti e di turisti che amanti del mare soffruiscono di questa struttura durante l'estate. Quindi un intervento importante che migliorerà le condizioni di sicurezza dell'intera area portuale, i sistemi di ormeggio, quindi un'opera importante con un considerevole investimento pure finanziario e quindi diciamo noi siamo contenti, realizzeremo, canteremo questo, non dimentichiamo, c'è l'escavo dell'intero ambito portuale, dell'intero bacino portuale, quindi un intervento che migliorerà la funzionalità e la sicurezza di questo porto. Grosso modo, quando termineranno i lavori? Abbiamo dato tempestiva e abbiamo dato molta fretta, molta pressione all'impresa, alla struttura tecnica, alla direzione dei lavori, perché questo arrecchi meno danno possibile, meno fastidio possibile poi agli utenti, gli utenti veri che sono adesso in questa fase i pescatori, che sono penalizzati, fra virgolette usiamo il termine penalizzati in questo momento perché appunto per via dei lavori non avranno la possibilità di fruire appunto del bacino portuale. Però è un sacrificio che bisogna fare, io ho detto in qualche riunione un po' di giorni fa, quando si lavora in una strada si crea un disagio agli automobilisti, se si lavora nel porto è inevitabile che si creano disagi anche agli utenti appunto del porto, quindi ai pescatori e fra poco ai diportisti, però noi contiamo in tempi relativamente brevi, un mese e mezzo, massimo due mesi, di concludere l'intervento diciamo che appunto crea le difficoltà maggiori ai pescatori, quindi diciamo nel tempo due mesi di poter far ritornare l'imbarcazione all'interno del porto.